ciao oggi voglio spiegarti l'importanza dell'utilizzo dei volumi ma soprattutto che tipo di volumi guarda lo schermo ogni tanto quando parlo con le persone dicono io utilizzo i volumi per fare trading e vedo che aprono questo istrogramma volumetrico mi viene da sua vedere certo puoi avere delle informazioni da questi volumi puoi sapere ad esempio che questo minimo che c'è stato venerdì in serata con tutti questi volumi sicuramente non sarà un minimo di svolta quindi il mercato è facile che rimbalzi lunedì magari anche qualche giorno e poi si inabissi di nuovo perché una tendenza per finire deve aver finito i volumi ma poi cosa si riesce a capire da questi volumi quali sono le informazioni operative che puoi avere beh è molto difficile bisogna essere artisti per poter interpretare quei volumi e riuscire a capirne l'andamento si diminuiscono salvo non diminuiscono va bene ma non è facile mentre invece se noi passiamo a altro quindi andiamo sui volumi il volum profile quindi su volumi che ti permettono di raffrontare differenti periodi credo di essere il primo e l'unico in italia che ha utilizzato il volum profile e volumi in assetto ciclico quindi dandogli delle temporalità e relazionandoli con una logica ben perfetta quindi in questo caso avrò i volumi a otto giorni perché voglio tradare un ciclo di quattro giorni in questo caso sulla destra avrò i volumi a quattro giorni e all'interno avrò dei volumi che hanno un periodo ben definito e rapportato fra i due precedenti quindi con questi volumi si riesce ad avere una modalità operativa poco discrezionale danno un'informazione perfetta in quando entrare e soprattutto ti mettono nelle condizioni di accorciare molto gli stop e avere un ritorno sul rischio elevatissimo quindi potrai partecipando al webinar di presentazione di volum master ricordo l'unico vero master italiano sull'utilizzo professionale e completo dei volumi non c'è nessun altro che ti potrà insegnare l'utilizzo dei volumi in questo modo partecipa e verifica di persona quello che ti sto dicendo quindi ti aspetto i numeri sono sempre più limitati clicca qui sotto per partecipare ciao